Segui La7 anche su Instagram. La7 ovunque con te. Sai le strutture che sono al collasso e sai che ci sono 100.000 persone che devono partire. Ammazza se non è questa un'emergenza qual è? Allora quell'atteggiamento a me preoccupa perché non è un atteggiamento legato a un dissenso che ci sta, ci mancherebbe altro. Io comincio a intravedere quasi dagli atteggiamenti di insubordinazione rispetto al governo e alle decisioni che legittimamente un governo prende. Prendi anche il discorso dei diritti cioè di trascrivere in barba quello che dice la legge o dicono la Corte di Cassazione le coppie che non hanno omosessuali sui figli. Non puoi non accettare il fatto che ci sia un governo e un Parlamento che prendono delle decisioni e le devi applicare. Non puoi da governatore dissentire e ci mancherebbe altro in tutte le forme previste. Protesta, fa quel che ti parla. Però la legge va applicata. Il commissario deve poter lavorare. Il commissario non è che deve buttare fuori la gente. Il commissario deve costruire strutture, deve coordinare gli interventi. Nella mia apertura ho fatto un esempio parlando di Goro e Gorino che lo seguì, ero in onda, lo seguì da vicino a tutta quella vicenda. All'epoca me lo ricordo bene che per esempio la Lega invitava i sindaci a ribellarsi. Quindi sai è una cosa che succede a correnti alternate in questo paese. Se c'è un momento adesso in cui davvero è talmente particolare di qui a due mesi, noi avremo già, se in una giornata sola, hai 40 che contemporaneamente arrivano. Pensa cosa succede quando il mare diventa calmo. Io ho una domanda da fare.